Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come boostare al meglio FPS su Warzone 2.0 anche se in questo caso dobbiamo fare alcune modifiche sul pannello di controllo di Nvidia quindi non andremo su Call of Duty Modern Warfare 2.0 ma andremo a fare questa cosa direttamente sul pannello di controllo di Nvidia quindi se andate in basso a destra qui c'è l'icona impostazioni Nvidia cliccateci due volte sopra questo è il pannello di Nvidia dove andremo poi a fare questi cambiamenti e modifiche su Call of Duty se non avete questo pannello di controllo Nvidia mi raccomando solo per Nvidia per AMD invece c'è un altro pannello che si chiama AMD Radeon quindi andate un attimo su Microsoft Store oppure su Chrome scrivete pannello di controllo Nvidia Microsoft.com questo qua scarica nell'app dello Store e questo è il pannello e cominciate a scaricarlo e adesso noi passeremo direttamente alle impostazioni quindi alle modifiche per boostare gli FPS su Call of Duty 2.0 quindi buona visione ok quindi adesso comincio a dirvi soprattutto che conta di più le prestazioni che la qualità quando giocate ad uno sparatutto quindi usa le impostazioni dell'immagine 3D avanzata oppure usiamo una grande preferenza mettendo in risalto sia la qualità che le prestazioni quindi se voi volete più prestazioni su un gioco quindi andate su usa la mia preferenza mettendo in risalto e andate su prestazioni e come potete vedere è cambiato moltissimo il logo di Nvidia se notate bene tutte queste pixel tutte queste righe che come si vedono malissimo però almeno ha aumentato così le prestazioni nel gioco oppure se in questo caso volete godervi una storia di un gioco perché sinceramente io quando gioco agli sparatutto non mi interessa proprio la luce, le ombre a me interessa soprattutto giocare, a giocare ad un battle royale trovare un nemico, farlo fuori, vincere la partita quindi in questo caso non ho neanche il tempo di osservare gli edifici, la luce, il sole, le ombre e cose così quindi io vedo solamente il nemico l'ho uscito e vedo che devo fare e avanzo quindi se in questo caso io gioco ad un gioco con una storia voglio godermelo al meglio comincio a mettere da prestazioni a qualità e come potete vedere il logo di Nvidia è ritornato di nuovo come era e si vede molto bene guardate un po', guardate e su questa regola l'impostazione dell'immagine faccio applica poi passiamo direttamente alla modifica della risoluzione qui dipende anche dal vostro schermo quindi quanti hertz avete sul vostro schermo quindi velocità di aggiornamento io ho 165 hertz in questo caso ragazzi prima Nvidia non so che cosa ha fatto ma aveva un piccolo problema poi sono riuscito a risolverlo perché se vado su 1080p clicco qua sopra velocità di aggiornamento me li mette su 120 hertz ok? quindi scendete fino a giù fino a trovare pc 1920x1080 dipende anche dal vostro display e mettete 165 hertz velocità di aggiornamento vabbè questo è mio o un monitor ter con 165 hertz poi non lo so se avete un monitor 244 hertz 2k o 4k poi mettete queste impostazioni grafiche e fate applica una volta fatto applica su questa modifica della risoluzione andiamo un attimo su regola e impostazioni colore andiamo un attimo su regola e impostazioni colore e come potete vedere qui c'è la luminosità più 50 contrasto più 50 e anche la gamma più 1.00 ma quello che ci interessa a noi sono questi due qua sotto quindi brillantezza digitale vi consiglio un più 70% e fate applica e tonalità invece tenetelo sui più 0 perché sinceramente la tonalità se adesso metto guardate un po' cambiate il colore quindi mettiamolo su 0 mettiamolo su 0 poi andiamo un attimo sulle regole le impostazioni dell'immagine gestisci le impostazioni in 3D questa ce l'abbiamo fatto gestisci le impostazioni in 3D andiamo su impostazioni programma perché qui dobbiamo inserire il nostro gioco quindi Call of Duty Modern Warfare 2.0 fate aggiungi sfoglia andate nella cartella dove avete installato il vostro gioco quindi in questo caso non dovete andare sulla cartella Call of Duty se l'avete installato su Steam dobbiamo andare un attimo su Steam libreria Steam apps com Call of Duty HQ a mesh e cliccate code e fate aggiungi per quelli invece che ce l'hanno su battle.net molto semplici andate direttamente a prendere la cartella del gioco dove l'avete installato perché su Steam è un'altra cosa quindi su Steam bisogna fare tutto quel casino la libreria com e poi prendere il gioco funzionalità e impostazioni quindi ridimensionamento immagine ragazzi Nvidia ci consiglia di inserire le impostazioni grafiche più adatte quindi sul ridimensionamento immagine Nvidia ci consiglia di disattivarlo quindi disattivarlo quest'altro qua della correzione della gamma sempre disattivato però Nvidia ci consiglia di attivarlo io sinceramente lo tengo disattivato però se Nvidia mi consiglia di attivarlo fatelo pure voi quindi attivatelo e fate applica poi questo qua non me lo sopporta però se a voi lo sopporta ragazzi attivatelo su impostazione anti-alias quindi io 8x io ho messo 8x così almeno vedo molto bene l'immagine però Nvidia mi consiglia di metterlo su 4x io lo metto su 8x escludi qualsiasi impostazione dell'applicazione sempre un consiglio di Nvidia su anti-aliasi trasparenza disattivato il buffering triplo disattivato sulla scheda video coda usa impostazioni globale usa queste GPU io metto la mia scheda video faccio ok compatibilità opencl facciamo fare tutto automatico ovviamente facendo anche delle ricerche sul filtro anisotropico e ho notato che sul il filtro anisotropico è un metodo utilizzato nella grafica tanto per accrescere la qualità sulle immagini che ritraggono così le texture quindi in questo caso se avete una buona scheda video ragazzi se avete una buona scheda video io vi consiglio veramente di metterlo sui 16x però io avendo una 1660 super lo metto su 8x come mi dice Nvidia su filtro strutture e filtro struttura ottimizzazione campione vi lascio stare come stanno così filtro struttura ottimizzazione trilineare disattivato filtro struttura qualità usa impostazioni prestazioni come ho detto prima contano di più le prestazioni che la qualità per aumentare gli fps su un gioco fotogrammi pre renderizzati per la realtà virtuale mi sembra virtuale uno e in video ci consiglio di metterlo su uno quindi ragazzi se in questo caso non avete più voglia di guardare un video vi consiglio tutto in video però ragazzi alcuni dei miei consigli possono anche servirvi in caso se vogliate non so giocare al meglio frequenza fotogrammi massima usa impostazioni globale disattivato tutto disattivato che è meglio frequenza fotogrammi massima io sinceramente la terra è attiva metto mille frequenza fotogrammi massima metto mille poi ci penseranno Call of Duty a vedere quanti fps riesco a fare frequenza fotogrammi massima applicazione frequenza fotogrammi massima applicazione già abbiamo questa frequenza fotogrammi metto disattivata oggi ok cpu rendering opencl sezione automatica metodo di presentazione Vulkan automatico modalità bassa latenza disattivati modalità di gestione per fortuna Nvidia ci consiglia tutto ed è anche più comodo potenza ottimale questo non riesce a sopportarla però ragazzi vedete un po' cosa vi dice Nvidia quindi fate occasione ambientale oppure è importante soprattutto sui giochi da come come vedete il paesaggio e le immagini soprattutto su molti oggetti particelle tutti gli effetti che avete davanti a voi in un gioco quindi ragazzi se vi dice di attivarlo di metterlo al massimo fate tutto quello che vi dice Nvidia ottimizzazione con Triad usa impostazioni globale metodo automatico sincronizzazione verticale è quella che blocca gli FPS il V-Sync usa l'impostazione interpretazione 3D tecnologia monitor compatibile G-Sync o questo pure ok velocità di aggiornamento preferita la più elevata disponibile e una volta fatto ragazzi facciamo applica sì li sta applicando a tutti ragazzi ora andiamo a vedere Call of Duty Modern Warfare 2.0 di quanti FPS di quanti FPS sono aumentati quindi andiamo un attimo a fare questo questo test ok andiamo ed eccoci qua su Call of Duty in full HD con tutta la grafica bassa raggi solari ombre luci tutto è basso tutto tutto è basso ed eccoli qua gli FPS è più o meno 84-85 FPS però ragazzi più di questo possiamo solamente arrangiarci quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi in questo nuovo tutorial e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao